L'istituto alberghiero Marco Polo crede nella sede coordinata di Calvari. Per 88 studenti, suddivisi in tre classi prime, è iniziato l'anno scolastico nei locali dell'Expo Fontana Buona. Per il momento sono state arredate le aule. L'obiettivo però è quello di ampliare i servizi, con una palestra, due aule computer, un'aula magna e non solo. L'obiettivo della dirigenza, del mio dirigente, è quello di, nel possibile, creare due percorsi paralleli a Camogli e qua a Calvari che vedano le prime, le seconde, le terze, le quarte e le quinte in tutte e due le strutture. Ci sarebbe la possibilità di investire anche nel futuro per realizzare qualcosa per i ragazzi della scuola? Certo. Abbiamo già deliberato in consiglio d'istituto che nel caso in cui la struttura dovesse andare avanti e quindi l'utenza ci desse ragione con le iscrizioni, negli anni a venire investiremo per i laboratori di sale e cucina. I laboratori potrebbero essere realizzati nel piano terra del padiglione F. Un investimento importante, preferito alla ristrutturazione della cucina già esistente, che però è piccola e chiede interventi di restauro per 40.000 euro. I dirigenti guardano con ottimismo al futuro, dunque, in attesa che questo primo anno ingrani in una struttura comunque ottima. La struttura è una struttura nuova, molto valida e quindi riuscire a far lezione e crescere in un ambiente sano, pulito e nuovo è sicuramente meglio che in altri tipi di ambienti. Direi che la zona è una zona con grosse potenzialità. I ragazzi sono contenti di far lezione a Calvari nonostante il disagio del viaggio. Un'iscritta arriva da Levanto. Il bacino maggiore è quello di Recco, Camogli, Avegno, Rapallo. Si arriva in treno a Chiavari e poi si prende l'autobus per la Fontana Buona. Com'è stato l'iter per poter arrivare qui? A Camogli abbiamo dei problemi di sicurezza, quindi il numero di alunni già presenti all'interno dell'istituto non ci permetteva di poter inserire nuove prime. Dopo una proposta del comune di San Colombano siamo riusciti, attraverso la provincia, ad avere questa struttura. Grazie. Grazie. Grazie.